Stasera abbiamo presentato il romanzo L'anima di Enrico Annibale e Butti presso la libreria guida di Salerno. È una riscoperta meritoria in quanto è un romanzo un po' dimenticato, riscoperto, riproposto a circa 90 anni dalla sua ultima pubblicazione. È di un autore che è stato ingiustamente dimenticato, ovvero Enrico Annibale e Butti, di cui tra l'altro da pochi mesi è caduto anche il centenario della morte. Quindi L'anima è un romanzo che tocca molte tematiche. Innanzitutto è un romanzo introspettivo che mette l'accento su una diatriba che vive appunto il narratore, Alberto Sarkori, tra una posizione materialistica e scientista e poi una serie di avvenimenti sovrannaturali che metteranno in crisi il suo credo. E quindi tocchiamo anche in questo senso il genere fantastico. Quindi davvero una riscoperta meritoria dovuta all'instancabile lavoro di ricerca del professore Gianandrea Di Antonellis. Grazie a tutti.